Tutto a posto? Sono morbide. Sono morbide le luci? Ecco, come ho spostato. Gioia. G come gioia. Non so di vivere. G come giramondo. La gioia di poter girare il mondo. I, ugualmente come idea e forse anche ideologia. Italia. Internazionale, l'internazionale, l'internazionale. E' la libertà. La libertà di inventarsi l'immagine. Di maccioso, come il caffè venuto al mattino, l'ho perfumato tanto. Scherzetta. Liquidità, ossia liquidi magici. Carburanti, corroboranti. B. Bellezza. Il mito della bellezza appartiene a tutte le discipline, soprattutto ad una, si chiama arte. Anche l'arte più brutale, anche l'arte più contro, tra virgolette, ha a che fare con la bellezza. E, come eleganza, a certe volte. Giusto, no? Gilbe. A Gilbe. Oh, mi schiora. Guarda. Non osa, non osa. Eleganza connaturata nell'essere operatore. L'operatore chi è? L'artista. L'artista opera in nome dell'arte. E, innesca, in questo caso ti faccio vedere l'incandescenza. Magnifico. Dove è arrivato? R come ribellione. Come rivolta. Ti, come tenacia. Come tentazione. Come tenerezza. Stai attento a chi stai per sbattere contro il tubo. 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 Ti come tubo. Invento. O. Otranto. Orgasmo. Orgoglio. Orgoglio dell'orgasmo. Oltre. Ecco. Andiamo oltre. Zeta. Come... Va bene, diciamo subito come Zorio. Zolla. Se ti smettavano che non capisco più niente. Facciamo un'altra cosa adesso, dai. Grazie. Grazie. Grazie.